Ben tornati a Football Benchmark, ben tornato Andrea Sartori, Global Head of Sports, KBMG. Ciao Luca, buonasera ai telespettatori. Noi oggi vi abbiamo chiesto di riuscire a capire quanto costa andare in Champions League, visto che la lotta per andare in Champions si impazza, visto che comunque ci sono notevoli incassi per partecipare alla competizione più importante in Europa, abbiamo cercato di fare i conti e la cosa più importante da analizzare come primo step per capire quanto costa andare in Champions League sono gli stipendi che bisogna pagare, che le società devono pagare per avere una rosa competitiva, che possa poi permetterti di andare a competere per quella competizione. Esattamente, quindi nella prima grafica cosa abbiamo fatto? Abbiamo analizzato praticamente il monte in gaggi medio delle quattro leghe, non abbiamo considerato la Bundesliga in quanto i dati non sono disponibili per tutte le squadre, e di conseguenza abbiamo analizzato la media delle squadre qualificate rispetto al totale del campionato. Sottolineo anche che ci riferiamo alla stagione 16-17, in quanto è quella in cui abbiamo tutti i bilanci a disposizione. Cosa possiamo vedere? Possiamo vedere che in Spagna c'è praticamente la più grande forbice tra le squadre qualificate e tutto il resto. Però c'è anche da dire una cosa, che pesa tantissimo in Spagna il valore del Real Madrid e del Barcellona, che insieme hanno un monte in gaggio che fa il 47% di quello della Liga. Se guardiamo invece la Premier League vediamo che anche proporzionalmente è la Lega in cui praticamente c'è la forchetta più ridotta. Possiamo dire che c'è più competizione da questo punto di vista? C'è più competizione, c'è più equilibrio, l'abbiamo discusso tante volte nelle varie puntate e penso che lo vedremo anche nelle prossime grafiche. A proposito di quello che dicevi e a proposito delle prossime grafiche, il fatto che Real Madrid e Barcellona abbiano il 47% del monte in gaggi della Lega è molto evidente dalla grafica successiva. Se tu hai finito il ragionamento sull'aggregato delle varie leghe possiamo spostarci alle grafiche che riguarda invece i singoli club perché nei top 8 in Europa ci sono chiaramente Barcellona e Real Madrid al primo posto, non ci sono italiane, ma ci sono due squadre inglesi che non partecipano alla Champions, che non hanno fatto la Champions League. Esattamente e ti sei focalizzato appunto su questo punto, due squadre che non partecipano, Chelsea e Arsenal e ricollegandomi alla grafica precedente, le cosiddette Big Six del campionato inglese formano il 51% del totale del monte in gaggi della Premier League, mentre le due spagnole fanno il 47%. Questo in un certo senso fa vedere la competitività del campionato inglese. Come dicevi giustamente, Real Madrid e Barcellona in testa a questa classifica, ma con il Barcellona nettamente avanti, con un monte in gaggi di 562 milioni e in questo valore pesano tantissimo il rinnovo mostre di Messi e l'ingaggio di Coutinho. Direi che è anche interessante notare che in questa grafica appare come terza squadra il Paris Saint-Germain. Devo dire anche un'altra cosa, che in questa grafica manca un'altra squadra che apparirebbe qui, che è appunto il Bayern di Monaco, però in considerazione del fatto che non abbiamo considerato la Germania, è appunto esclusa dalla grafica. Da sottolineare anche l'assenza di una squadra italiana. Certo. Andiamo allora a vedere la composizione degli stipendi delle squadre italiane che hanno partecipato a questa Champions League, che si sono qualificate nella stagione scorsa. Ti faccio già una domanda composita. La Juventus naturalmente è la prima italiana, qui non c'è ancora lo stipendio di Cristiano Ronaldo. No, perché appunto in questo caso ci riferiamo alla stagione 2017-2018, quindi lo vedremo nel bilancio successivo. Tendo anche a sottolineare... Tua previsione, entra nella top 8 la Juventus con Cristiano Ronaldo o rimane comunque fuori dalle prime otto? Non abbiamo ancora i valori, però a mio avviso dovrebbe rimanere fuori perché comunque c'è stata una crescita generale degli altri. E comunque parte dello stipendio di Ronaldo sostituisce quello di Guain, che era comunque uno stipendio molto importante. Questa è la classifica delle italiane, se così vogliamo definirle. Si qualificano in Champions League, Andrea, quattro fra le cinque che hanno i monti in gaggi più alto, perché qui manca il Milan. Esattamente, quindi questa classifica riguarda le quattro classificate, però manca il Milan, che se guardiamo lo storico, le vedremo più avanti, molto spesso ha il secondo monti in gaggi più alto, non in questa stagione però. Torniamo alle leghe complessive, sempre scusa la Bundesliga, perché qui ci siamo focalizzati sulle singole società e sul paragone di chi va in Champions League rispetto a tutto il resto del campionato. Se andiamo a vedere... Scusa Luca se ti interrompo, qui paragoniamo chi è andato in Champions League con le tre... Esatto, noi abbiamo visto quella di tutto il campionato, adesso andiamo a vedere chi va in Champions League contro le prime tre che non ci sono andate. Giusto, giusto. E obiettivamente a me il dato spaventa ancora di più, soprattutto per la Liga. Ecco, la differenza tra le qualificate, le quattro qualificate e le tre che stanno immediatamente dietro, quindi dal quinto al settimo posto, è di quattro volte e mezzo. È pazzesco. È pazzesco. E la differenza tra il Real Madrid e il Barcellona rispetto ad esempio alla quarta arrivata che era il Sevilla che si è qualificata è quattro o cinque volte. Quindi mantiene comunque il paragone, no? Il gap rimane altissimo. Il Premier è praticamente uguale. Il Premier è praticamente uguale, però anche in questo caso c'è un effetto un po' particolare, perché in questa stagione il Manchester United non si era qualificato per partecipare. Ci pare la Champions League, anche se però l'ha fatta vincendo poi l'Europa League e di conseguenza appare qui nelle cosiddette non qualificate. E il Tottenham con un monte in gaggi piuttosto basso ha comunque partecipato. Si vede ancora che la Ligue 1 e la Serie A hanno un gap che è abbastanza importante tra qualificate, ma certo non raggiunge gli squilibri della Liga. Allora, andando a vedere nello specifico lo storico degli stipendi, dell'aggregato degli stipendi, di chi si qualifica in Champions League e delle prime tre non qualificate della Premier, insomma vediamo che c'è un andamento anche se vuoi particolare con una differenza che si contrae e aumenta, ma non in maniera eccessiva probabilmente, Andrea. Correggimi se sbaglio. Hai assolutamente ragione. Prima di tutto parliamo un attimo di medie perché poi sai, negli anni ci può essere l'eccezione la squadra che si qualifica, il Leicester che vince il campionato nel 15-16, il Manchester United che non si qualifica nel 16-17 e questi due eventi in un certo senso vanno a diminuire la forbice tra chi si qualifica e non si qualifica. Ma la media degli anni delle squadre qualificate è 222 milioni di euro, mentre la media delle non qualificate è 161 milioni. Però, tutto sommato, negli anni questa forbice non è così ampia. Ma possiamo dire, e semplificando molto, che qualificarsi in Champions League è più difficile in Premier? Assolutamente sì. Perché non hai la certezza pur spendendo molto. Assolutamente. La competitività è certamente maggiore. E andiamo a vedere allora invece la stessa cosa per quanto riguarda la Serie A. Mentre invece qui, si vede benissimo dal grafico e dai numeri che ci avete portato, la forbice tende ad allargarsi stagione dopo stagione. La forbice... Noi abbiamo messo anche le qualificate sotto per rendere l'idea, no? Esatto. Allora, parliamo prima di medie. Sì. In generale, per queste sei stagioni, chi si è qualificato in media ha speso 139 milioni, quindi 80 milioni. Meno delle inglesi e chi non si è qualificato ne ha spesi 78. Anche qui 80 milioni esattamente meno delle inglesi. Abbiamo la Juventus che si è qualificata sei volte vincendo il campionato. In queste stagioni il Milan si è qualificato due volte, l'Inter non si è mai qualificato, la Roma e il Napoli si sono qualificate quattro volte. Però tendo a sottolineare che le milanesi in aggregato cinque volte su sei avevano il secondo monte in gaggi più alto. Per dire anche che non necessariamente spendendo tu hai la certezza di andare in Champions League. Così come, poi lo vedremo magari perché ci spiegherai brevemente come è possibile per l'Atalanta competere con questi numeri qua, ci direi quali sono i numeri dell'Atalanta. La costruzione della squadra, il valore della squadra che ha in quel momento a disposizione, i dati sono da Transfer Market, per cercare di capire quanto è più competitiva rispetto alle altre la tua rosa. Anche qui naturalmente cresce in maniera esponenziale dal 2012-13 fino all'ultima stagione il valore della rosa disposizione di chi si qualifica in Champions League ma cresce anche il divario leggermente. Non allo stesso modo ma cresce anche il divario. Cresce anche il divario, direi che è un'osservazione corretta ma anche qui per andare ad appiattire gli eventi eccezionali io preferisco sempre focalizzarmi sulle medie. La media dei sei anni delle qualificate è 308 milioni e delle tre non qualificate è 190 milioni. Quindi parliamo di una differenza di circa 120 milioni. L'analisi che non è poco, non è poco. Ci passa una squadra di mezzo quasi. È vero, è vero. Però direi che la conclusione che possiamo trarre da questa analisi è che se tu hai una squadra che vale circa 300 milioni di euro, valore della rosa, e hai degli stipendi, un monte in gaggio di circa 150, le probabilità di qualificarsi sono altissime. Allora, chiedo alla regia un piccolo sforzo in più. Sì. 300 milioni di squadra come valore della rosa, 150 di ingaggi. Se andiamo a riprendere l'ultima grafica per vedere quello che è il valore della rosa, va benissimo. La media delle qualificate in Champions è 481. Andrea ci ha appena detto che con 300 siamo relativamente tranquilli. Certo. L'Atalanta ad oggi ha un valore di rosa di? Al primo di gennaio, secondo il nostro algoritmo, il valore della rosa dell'Atalanta è 160 milioni. Quindi la metà rispetto a quello che hai detto tu. La metà della media. Mi alzo un attimo, chiedo scusa al regista, sarebbe più o meno qui l'Atalanta come valore di rosa. E come il monte in gaggi? Guarda, il monte in gaggi è ancora più sorprendente perché al 30 giugno 2018 il monte in gaggi dell'Atalanta, che non penso sia cambiato di molto rispetto ad adesso, è 50 milioni. Quindi un terzo rispetto ai 150 milioni. Ha la tua garanzia, fra virgolette. Esatto. Quindi complimenti doppi allora all'Atalanta, al lavoro di Gasperi e al lavoro dei percassi. Grazie mille anche all'ottimo lavoro di Andrea Sartori. L'appuntamento con Football Benchmark torna la prossima settimana.